Condanne Juventus, Coppa e Rigore, i 7 giorni della verità e voleva stare, era già rientrato e stasera ho deciso che Coppa avrebbe giocato questa partita quindi soprattutto per testarlo e soprattutto perché era una partita doveva giocare nella metà campo della Cremonese e quindi c'era bisogno di tecnica e di fisicità e lui ha queste caratteristiche in questa partita ho scelto la formazione migliore non è questione di turnover, era importante scegliere la formazione migliore per affrontare questa partita molto semplice La partita, l'Europa League è la semifinale loro sono molto forti in casa bisogna rimanere lucidi e sapere che la partita dura 95 minuti quindi bisogna stare dentro la partita Ciao! 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 Grazie.